non sto bene oggi e non sono un super uomo ho preso sonno presso le cinque e mezzo sei stamattina perché l'amarezza non mi ha fatto dormire e una vena di depressione stamattina mi ha impedito di riprendere le mie attività le ho seguite così telefonicamente perché non comprendo in un momento così delicato a che servono certe strumentalizzazioni si era posto il problema della banca dati per distribuire la card di sostegno alimentare e siamo stati l'unica città metropolitana che è partita con sistema automatico con i suoi problemi ma sta funzionando in tre giorni abbiamo già quasi diecimila istanze e nessuno più ne parla perché d'altronde bisogna solo attaccare l'amministrazione De Luca poi quando le cose si fanno e altri non riescono neanche a partire non se ne parla più vengo attaccato per le mie parolacce per carità ho chiesto scusa per gli accostamenti però io quantomeno cerco di farmi capire un mio metodo me ne prendo la responsabilità e obiettivamente anche su questo attacchi strumentali anche del garante dell'infanzia che non si vuole il problema magari di come poi la quotidianità basta fare gli attacchi da questo punto di vista blasonati poi che nelle baracche vivono bambini in 30 metri quadrati in piena promiscuità e in condizioni igienico-sanitarie vergognose lì il garante non ci va perché non se ne vuole sporcare le mani e quindi stare nei salotti buoni ti portano a sporcarti le mani ho fatto la mia battaglia per l'ossetto di Messina e come avete visto è finita che attendiamo ora queste proposte dei deputati di 5 stelle ma guarda caso fino a quando ho fatto la battaglia io nessuno si è schierato al mio fianco perché continuiamo sempre con la lotta politica selvaggia fuggendo dal merito nessuno è più in condizione di dirvi chi sbarca in Sicilia chi entra attraverso lo stretto di Messina perché tanto non è un problema che riguarda loro per loro è importante fare la guerra e la caccia all'uomo rispetto a un amministratore come me che gli eleganta chiare ma non solo propone anche le alternative valide e quindi ci ritroviamo sempre col solido delitto di lesa maestà ma quello che mi ha veramente ammazzato ieri ve lo dico fraternamente è stato l'attacco riguardante questo trasferimento di salma di un pregiudicato da casa sua al cimitero che io sconoscevo perché io ho staccato la domenica di Pasqua non ho letto queste questioni le ho sapute lunedì le ho approfondite ho parlato con questore stanno facendo le relazioni del caso e io vengo accostato a questi ambienti poi questi ambienti ringraziano me perché ho preso semplicemente ho detto la verità come stanno le cose ed è ovvio che io non ho mai chiesto i voti alla mafia non ho mai chiesto i sostegni alla mafia e non voglio ringraziamenti comunque da parte di ambienti che in ogni caso potrebbero essere o sono contigui alla mafia dopodiché l'altro attacco ho cercato in queste settimane credetemi di tenere buoni tutti sono andato in tutte le baracche ho cercato di non fare nessuna pubblicità in merito se non proprio l'essenziale per dire ci siamo ma per fargli toccare a sta gente che sta sotto l'amianto sotto l'amianto vi rendete conto che in 20-30 metri quadrati ci sono famiglie intere numerose con tanti bambini e nessuno si pone il problema di come stanno questi contesti allora il segno pasquale ho cercato di farlo avere anche in questi luoghi con la Messina Social City, i volontari ieri ho trovato il tempo per andare un attimo anche a Rione Taormina e non ho fatto foto, non ho fatto nulla e viene fatto girare un video da dove si sente chiaramente che io rimprovero in continuazione le persone per evitare assembramenti e vengo sbattuto ai 4-20 così ma in fin dei conti ma un sindaco che sta in trincea che continua a rischiare anche io ho famiglia, parliamoci chiaramente continuo a rischiare per il bene della mia comunità combatto contro questi sistemi assurdi e balordi ma cosa si pretende di più da questo sindaco? perché questa continua caccia all'uomo? dove volete arrivare? qual è il risultato che volete ottenere? stiamo cercando di dare il massimo nei nostri limiti, nei nostri difetti con il nostro anche, magari, metodo sbagliato ma il risultato è quello che cerchiamo di portare a casa nell'interesse della nostra comunità e allora poi ti domandi cosa devi fare? tenere, così considerare tutte queste accuse di un mondo che alla fine ti lotta perché vuole prendere il tuo posto ho l'apprezzamento della gente comune che capisce, che sa leggere le tue lacrime la tua amarezza, anche i tuoi silenzi è logico che per me prevale questa seconda parte ed è per questo che sono in trincea ed è per questo che continuo a lavorare per i messinesi, per i siciliani, per gli italiani a lavorare per quel territorio che è martoriato da chi sta sopra le nostre veste e purtroppo continua spesso a fare leggi sbagliate e a ragionare con la sua ponenza scusatemi per lo spogo non avevo proprio bisogno ecco Grazie a tutti.